Uomini e donne, piccoli e grandi, ricchi e poveri, savi e ignoranti, ebrei e gentili. Ascoltate quello che sto per annunziarvi. In Marco, al capitolo 16, leggiamo quanto segue alcuni versetti. Capitolo 16, leggerò il versetto 14, 15 e 16. Di poi apparvi agli undici, mentre erano a tavola, e lì rimproverò della loro incredulità e durezza di cuore, perché non avevano creduto a quelli che l'avevano veduto risuscitato. E disse loro, andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato, ma chi non avrà creduto sarà condannato. Dunque Gesù, quando apparve ai suoi undici apostoli, dopo essere risuscitato dai morti, diede loro questo comandamento. Andate per tutto il mondo e predicate l'Evangelo ad ogni creatura. Quindi, la predicazione dell'Evangelo per tutto il mondo è qualcosa che è stata ordinata dal Signore Gesù Cristo ai Suoi undici apostoli. Ora, ancora oggi, l'Evangelo a distanza di molti secoli, dico l'Evangelo, viene tuttora predicato. Viene predicato da coloro che il Dio ha mandato a predicarlo. E io sono, per la grazia di Dio, uno di coloro che Dio ha inviato a predicare il suo Evangelo. E quindi ve lo annunzio. L'Evangelo è la buona novella che Gesù di Nazareth è il Cristo, che è morto per i nostri peccati, secondo le scritture, che fu seppellito, che risuscitò dai morti il terzo giorno, secondo le scritture, e apparve ai testimoni che erano innanzi stati scelti da Dio. Questo è l'Evangelo, cioè la buona novella. Questo è l'Evangelo del quale l'Apostolo Paolo, Apostolo dei Gentili, disse che è potenza di Dio per la salvezza d'ogni credente, del giudeo prima e poi del greco, poiché in esso la giustizia di Dio è rivelata da fede a fede, secondo che è scritto, ma il giusto vivrà per fede. Dunque, questo è l'Evangelo di Dio, nel quale, credendo, otterrete la salvezza dai vostri peccati. perché voi, dato che siete dati al peccato, siete schiavi del peccato, perché chi commette il peccato è schiavo del peccato. Avete bisogno di essere affrancati dal peccato, per essere resi liberi. E questo affrancamento, questa liberazione, la potete ottenere solamente credendo nell'Evangelo. Badate che credendo nell'Evangelo otterrete anche la remissione dei peccati, perché di Lui attestano tutti i profeti che chiunque crede in Lui riceve la remissione dei peccati mediante il suo nome. Credendo nell'Evangelo otterrete la giustizia di Dio che viene dalla fede e quindi sarete giustificati, sarete resi giusti. E sempre credendo nell'Evangelo otterrete la vita eterna, perché disse Gesù chi crede ha vita eterna. Non dice avrà, ma ha. Perché chi crede ha il figliolo di Dio e chi ha il figliolo ha la vita. Dunque non può essere altrimenti perché Gesù Cristo, il figlio di Dio, è la vita eterna. Lui è la vita eterna che era presso il Padre e che ci fu manifestata. Quindi chi crede nell'Evangelo ha, possiede la vita eterna. dunque una volta che crederete nell'Evangelo dovete essere battezzati, battezzati in acqua per immersione, immersione totale nel nome del Padre e del Figliolo e dello Spirito Santo. Questo è quello che ha comandato il Signore Gesù Cristo. Il battesimo in acqua che viene ministrato a coloro che hanno creduto nell'Evangelo è la richiesta di una buona coscienza fatta a Dio e dunque una volta che crederete nell'Evangelo dovrete farvi battezzare in acqua per totale immersione. ora questo è quello che avveniva anticamente infatti coloro che credevano nell'Evangelo venivano battezzati e venivano battezzati subito dunque anche voi se crederete nell'Evangelo dovrete essere battezzati subito quindi chi avrà creduto e sarà stato battezzato sarà salvato sarà naturalmente salvato dai suoi peccati ma sarà salvato dal Signore nel suo regno celeste perché è il fine della fede e la salvezza dell'anima dunque coloro che hanno la fede quando muoiono essendo che muoiono nel Signore Gesù Cristo il Signore li salva nel suo regno celeste dove regna la pace dove c'è la gloria dove non c'è più pianto non c'è più dolore dove dove le anime adorano il Signore lo esaltano lo celebrano dove le anime si riposano dalle loro fatiche ebbene questo è quello che aspetta coloro che hanno creduto e che credono né l'Evangelo la gloria nel regno dei cieli Gesù lo ha detto chi crede ha vita eterna e disse anche chi crede in me anche se muoia vivrà vivrà dove vivrà vivrà appunto in cielo nel regno dei cieli ma voglio anche farvi sapere che se non crederete nell'Evangelo non vedrete la vita l'ira di Dio resterà sopra di voi e sarete condannati quindi o uomo incredulo ascoltami se tu perseveri nella tua incredulità tu sarai condannato Gesù Cristo lo ha detto chi non avrà creduto sarà condannato quindi ti voglio far sapere o uomo incredulo quello che ti aspetterà dopo la morte quello che ti accadrà una volta che tu spirerai te lo voglio fare sapere affinché tu non abbia da dire nessuno me l'aveva detto quando spirerai l'anima tua si dipartirà dal corpo perché tu hai un'anima e quest'anima scenderà 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 fino a che raggiungerà un luogo di tormento che si chiama Hades comunemente conosciuto con il termine inferno luogo di sotto luogo inferiore è un luogo di tormento perché là arde il fuoco e le anime che scendono sono tormentate in mezzo al fuoco o uomo incredulo ecco quello che ti aspetta dopo la morte il tormento in mezzo al fuoco e bada bene poi verrà il giorno del giudizio quando risusciterai in risurrezione di condanna comparirai davanti al trono di Dio sarai giudicato secondo le tue opere e gettato nello stagno ardente di fuoco e di zolfo o la genna dove sarai tormentato nei secoli dei secoli anima e corpo quindi è evidente che gli increduli non saranno salvati gli increduli saranno condannati è certa la loro condanna è una sentenza già scritta per quello che vi esorto a voi che siete sotto il peccato a ravvedervi e a credere nell'Evangelo perché l'Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente e credendo solamente nell'Evangelo che potete essere salvati perdonati giustificati riconciliati con Dio e ottenere la vita eterna solo credendo nell'Evangelo quindi affrettatevi non dite non ho tempo adesso ci penserò domani o dopo domani non ti vantare del domani perché non sai quello che un giorno possa produrre la morte ti potrebbe cogliere pure in questo momento o tra poco che ne sarà dell'anima tua che ne sarà dell'anima tua te l'ho detto la perderai se tu morissi in questo momento senza Dio senza Cristo andresti all'inferno e per te non ci sarebbe più possibilità di salvezza ecco perché ti scongiuro nel nome del Signore te lo ripeto a ravvederti e a credere nell'Evangelo della grazia di Dio il tuo cuore sarà quando crederai nell'Evangelo sarà ripieno di gioia ripieno di pace e di riconoscenza verso colui che è il salvatore del mondo cioè Gesù Cristo il quale è venuto nel mondo per compiere la propiziazione per i nostri peccati per ordine dell'Iddio e Padre Su considera dunque lo stato in cui ti trovi la via in cui ti trovi perché tu sei sulla via della perdizione ma considera anche che Gesù Cristo è il salvatore del mondo considera anche che il suo Evangelo è potenza di Dio per la salvezza di ogni credente quindi ravvediti o uomo che sei sotto il peccato ravvediti convertiti dalle tue vie malvagie e credi nell'Evangelo che Gesù Cristo il figlio di Dio ha comandato di predicare per ad ogni creatura cosa farai dopo avere sentito questo messaggio il mio desiderio la mia preghiera è che tu ti ravveda e creda nell'Evangelo questa è la mia la mia preghiera perché per questo mi affatico per questo appunto predico l'Evangelo perché voglio che coloro che ascoltano l'Evangelo credano in esso e siano salvati quindi te lo ripeto ravvediti e credi nell'Evangelo della grazia di Dio e Dio avrà misericordia di te ti perdonerà ti salverà ti giustificherà ti darà la vita eterna ma se rifiuterai di credere nell'Evangelo sappi che farai un orribile fine quando morirai te ne andrai nelle fiamme dell'inferno è sicuro che ha orecchi da udire oda che ha orecchi che ha orecchi Grazie a tutti